Nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia per il coronavirus, in Toscana il numero di persone positive al test sono diventate 320, 56 in più rispetto a ieri, lo stesso numero rispetto al giorno precedente. Aumenta notevolmente anche il numero di persone in isolamento domiciliare, 5837, 1410 in più rispetto a 24 ore fa. Nel frattempo la Regione ha annunciato che sono in arrivo negli ospedali toscani i rinforzi per fronteggiare l'emergenza. Entro una decina di giorni saranno effettuate 2000 assunzioni a tempo indeterminato di infermieri e operatori sociosanitari da affiancare a quelli già impegnati nella sfida contro l'epidemia negli ospedali toscani. E sono pronte anche le graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di 670 medici specialisti, ovvero 200 anestesisti, 300 medici internisti, 150 medici dell'emergenza, 20 infettivologi. Attivate in parallelo anche una serie di selezioni per gli specialisti di cui si potrebbe aver più bisogno nell'immediato futuro, a partire da pneumologi e microbiologi. Grazie a tutti.